Salve ragazzi e bentrovati! Avendo avuto qualche richiesta oggi vi volevo un attimino far vedere il programma che ho scelto per la gestione del mio allevamento. Il programma in questione è Beards Evolution. Già dalla schermata iniziale si vedono nove finestre, ognuna con delle voci. La prima è Uccelli. Questa finestra serve per inserire ogni singolo soggetto presente nel nostro allevamento. Tramite la voce presente si clicca, io già l'ho fatto inizialmente, però adesso ne selezioniamo un soggetto a caso, si apre una scheda in cui viene inserito il numero dell'anello del soggetto in questione, se è disponibile, quindi presente in allevamento oppure assente, esterno o quant'altro, e in che periodo si trova, in periodo di riproduzione in questo caso, oppure di riposo o a vendere o altro. Tenete presente che tutte queste voci comunque possono essere personalizzabili. Poi ci sono la specie, la sottospecie, la varietà, il sesso, il metodo di sessaggio, in questo caso visivo, origine, siccome che l'ho acquistato da un allevatore, quindi proveniente da un altro allevamento, identificazione del soggetto tramite anello chiuso, il numero dell'anello, la data di nascita e la data di acquisto. A fianco a destra si può inserire i dati dell'allevatore da cui abbiamo acquistato il soggetto e addirittura può essere inserito anche una foto del soggetto stesso. Poi abbiamo la voce della genetica, padre, madre, tutto l'albero genealogico, il monitoraggio, quindi le varie diete, la riproduzione, la salute, ci possiamo inserire delle informazioni che noi riteniamo utili a seconda del soggetto e poi abbiamo le varie che è la data di inanellamento, di svezzamento, il prezzo d'acquisto, il valore stimato del soggetto e in più può anche essere stampato un certificato di nascita. Adesso vi faccio vedere. Questa funzione di stampare il certificato di nascita lo ritengo sinceramente molto utile perché va comunque sia a dare un valore aggiunto e quindi a creare ciò che è la storia del soggetto che noi stiamo cedendo o vendendo. Questo insomma credo che sia anche tra virgolette dare un aspetto un po' più professionale al lavoro che c'è dietro. Difatti se noi andiamo a cliccare su un soggetto che ho anellato qualche giorno fa, vedete questo viene dal mio allevamento con il suo anello chiuso, data di nascita il 6 febbraio 2019, nel momento in cui io vado su varie e vado a stampare il certificato, clicchiamo all'acquirente. Poi abbiamo l'allevamento, quindi quanto si andranno a formare le coppie, gabbia numero 1 ad esempio, maschio numero di anello 39, femmina numero di anello 59, qui viene visualizzato le varie covate. In questo caso, nella prima covata, se noi andiamo nello specifico, vediamo che ha deposto 4 uova in 4 giorni diversi, però tutti e 4 non fecondi. Qui si va ad inserire la data di deposizione, si sceglie la data in cui viene ritirato l'uovo e la data in cui viene rimesso l'uovo dentro il nido affinché la femmina possa iniziarlo a covare. Nel caso in cui invece nella seconda covata abbiamo sempre 4 uova, però 3 fecondi e 1 no, avremo sempre la data della deposizione. Il ritiro temporaneo, la data in cui viene tolto l'uovo e la data in cui viene rinserito, il tipo di uovo, in questo caso fecondo, stato dell'uovo in sviluppo e il programma stesso ci dice che la nascita è prevista per il 17 febbraio 2019. Quindi qui riusciamo realmente a tenere in modo semplice, però chiaro e lineare, ciò che è tutte le fasi, dalla deposizione dell'uovo fino allo svezzamento di ogni singolo piccolo. Poi abbiamo la voce genealogia in cui si va a calcolare e a visualizzare l'albero genealogico di ogni singolo soggetto, questo è il piccolo, il padre, la madre e così a seguire man mano che passano gli anni. Poi abbiamo raccolte, raccolte non sarebbe altro che un'agenda dove andremo ad inserire numeri di telefono, siti web e quant'altro di allevatori, dei vari fornitori e del club in cui eventualmente apparteniamo. In più c'è la voce zona e gabbie in cui si vanno ad inserire tutte le varie gabbie che abbiamo, l'utilizzo per cosa le andiamo ad adoperare, come nell'esempio gabbie numero 1 misura 58x32 viene utilizzato durante il periodo di riproduzione e può essere addirittura diviso per quegli allevamenti che hanno più stanze, quindi più zone, anche le gabbie secondo la disposizione in ogni singola zona. Poi abbiamo la voce aggiornamento e questo non è altro che un calendario in cui ci fornisce dei promemori a seconda degli avvenimenti che dovranno accadere, ad esempio la data in cui bisogna fare la speratura, la data in cui dovrà andascere un soggetto, oppure semplicemente delle date che noi inseriamo per dei trattamenti o quant'altro, il programma stesso ci avviserà il giorno prima della scadenza di quel trattamento o ci ricorderà quell'evento che dovrà accadere il giorno successivo. Poi abbiamo la voce bilancio, qui si andranno ad inserire le uscite, cioè il costo di materiali deperibili, tra cui cibo, pastone o quant'altro, ma anche semplicemente di prodotti che possono essere utilizzati durante l'anno, ma anche per quanto riguarda attrezzature, questo ci calcola tutte le uscite, mentre per quanto riguarda le entrate, ad esempio soggetti venduti, ci farà un bilancio mese per mese, quindi tra uscite ed entrate. Poi abbiamo la voce varie, in cui qua si va ad effettuare ciò che abbiamo in magazzino, i vari prodotti, eccetera, con le date di scadenze, e così ogni qualvolta dovremo eventualmente rifare un ordine online, o andare da un nostro fornitore per prendere determinati articoli che sono prodotti che sono o si stanno ultimando, possiamo fare la stampa del nostro stock attuale ed avere così un raguaglio del nostro magazzino sempre aggiornato. Le fonti invece è un database dove secondo la specie che alleviamo possiamo scaricare appunto questo database e ci dirà un po' le notizie, le informazioni attirenti a quella specie che stiamo allevando. E poi l'ultima voce è la voce allevamento a mano. Questa voce qui invece è utile per chi ad esempio alleva pappagalli e quindi che ne so, li alleva a mano per un determinato scopo. C'è l'aggiornamento delle uova alla nascita, al peso settimana per settimana secondo la crescita e questo può essere utile appunto proprio per chi fa molto allevamento a mano, a specie che quindi hanno necessità di questo. Tenete conto che Builds Evolution si trova in due versioni, nella versione standard che costa una cinquantina di euro che è quella che ho io e la versione invece pro che se non erro costa un 10-15 euro in più. La differenza qual è? è soltanto che nella versione standard l'allevamento a mano non è disponibile, invece nella versione pro si per quanto riguarda tutto il resto sono esattamente identici. Ripeto, io con questo programma lo sto operando già da diversi mesi e sinceramente lo trovo semplice, lo trovo intuitivo, completo e comunque anche avendo pochi soggetti ma riesco realmente ad avere abbastanza chiara la situazione nel mio allevamento. Penso per chi ha molti soggetti o addirittura anche più zone d'allevamento, quindi per grandi allevamenti, io credo che realmente possa essere un programma, credo, indispensabile. Tutto qua ragazzi, io vi ringrazio anche questa volta per aver visionato il mio video, spero che possa essere utile a qualcuno che stia valutando l'acquisto o meno di un software di gestione e ci vediamo al prossimo video con l'aggiornamento su come procedono le cove all'interno del mio allevamento. e ci vediamo al prossimo video